ciao a tutti oggi parliamo della FIP la peritonite infettiva felina una patologia virale che colpisce i nostri gatti e sarà un argomento molto corposo molto denso e quindi mettetevi comodi se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale e se volete lasciare un commento lasciate pure un commento sotto al video sia se avete delle curiosità legate a questa patologia sia se avete curiosità ad altre patologie che poi cercherò di realizzare un video apposito allora la peritonite infettiva felina un argomento che per ogni proprietario di gatto crea molto timore molta paura e quindi cercherò di spiegarvi bene che cos'è che cosa causa e se esiste o meno una terapia partiamo subito col dirvi che il l'agente zoologico è un coronavirus un coronavirus che vive nell'intestino dei gatti è un virus che tendenzialmente non crea grossissimi problemi colonizza l'intestino senza grandi grandi problemi e generalmente il 90 95 per cento dei gatti soprattutto di allevamenti di colonie a è positivo al coronavirus questo coronavirus felino non è ovviamente la gente che causa la fib ma è una mutazione di questo virus che sembrerebbe essere il responsabile poi della patologia della peritonite infettiva felina quindi essere positivi al coronavirus per un gatto non significa essere per forza un gatto che svilupperà la fib questo è molto importante la mutazione che cosa crea fondamentalmente crea il fatto che questo virus possa riuscire ad avere uno sviluppo a livello sistemico che molto spesso provoca la morte esistono due forme di fib che sono la forma essudativa e la forma secca e questa dipende dalla risposta immunitaria se prevale la risposta umorale abbiamo la forma secca a volte possiamo avere una forma mista e nel caso il gatto avesse una forte immunità umorale e una forte immunità cellula mediata probabilmente riuscirebbe a contrastare anche la patologia queste sono ovviamente teorie perché ad oggi la fib è ancora un mistero nell'ambito medico veterinario partiamo subito col cercare di spiegarvi le due forme fondamentalmente nella forma secca nella forma umida quella è sudativa abbiamo la caratteristica della presenza di un versamento molto spesso addominale quindi abbiamo questi gatti che dimagriscono e che hanno invece un addome molto molto grosso e ovviamente la visita clinica questo addome è molto caratteristico perché per la presenza di liquido a volte possono avere anche versamenti toracci quindi potrebbe arrivare un gatto in disnea difficoltà respiratoria e tendenzialmente la forma è sudativa è una forma iper acuta acuta nel senso che nel giro di pochi giorni poche settimane vedete questo gatto riempirsi di questo liquido tendenzialmente il gatto dovrebbe avere anche una colorazione giallastra delle mucose perché presente ittero febbre dimagrimento anoressia e nel giro di poche settimane morte dell'animale questo se c'è un elevata risposta omorale nella forma secca invece abbiamo la formazione di granulomi in diversi organi soprattutto rene fegato sistema nervoso centrale e occhio quindi crea una serie di patologie correlate a questi organi di solito nella fib abbiamo febbre tendenzialmente una febbre che si aggira sui 39 7 39 9 non abbiamo quelle febbre per esempio da scessi da morso magari 40 e mezzo è una febbre che non risponde chiaramente a nessun tipo di terapia né antibiotica né antipiretica non si abbassa fondamentalmente a livello di analisi del sangue abbiamo delle alterazioni possiamo avere un'anemia abbiamo l'ittero la presenza di ittero quindi colorazione giallastra del siero aumento della bilirubina nella forma secca possiamo avere ovviamente ripeto tutta una serie di patologie legate per esempio ai reni quindi insufficienza renale al fegato insufficienza epatica e al sistema nervoso centrale all'occhio con tutte patologie che sistema nervoso centrale potremmo avere crisi convulsive atassia comunque problemi neurologici molto evidenti nel gatto mentre nell'occhio possiamo vedere uveite corioretinite è una patologia che fondamentalmente non esiste ad oggi un test diagnostico ma che ti dice quella è FIP ma è un insieme è un mix di elementi che ci fanno capire che il gatto ha la peritonite infettiva felina perché questo perché ve l'ho spiegato all'inizio è una mutazione di un virus che generalmente non crea problemi nel gatto quindi quando noi andiamo a cercare il coronavirus non sappiamo distinguere tra quello della FIP e quello comunemente che vive tranquillo molto spesso nell'intestino dei nostri gatti e quindi un altro esame che di solito ci aiuta è l'elettroforesi perché di solito abbiamo una gammopropatia in questi gatti e quindi l'elemento un po' di diciamo anamnesi segni clinici esami di laboratorio ci fanno un po' sospettare che sia una FIP per esempio il versamento di un gatto con la FIP è un versamento che ha un colore giallo torbido con fiocchi di fibrina con proteine superiore ai 2 grammi su decilitro quindi ha una caratteristica molto particolare chiaramente ripeto anche lì non è che dal versamento si decide è FIP perché possono essere esserci anche altre patologie è un mix ripeto elettroforesi versamento condizioni diciamo generali dell'animale di solito è una patologia che si verifica a seguito di un evento stressante molto spesso però è molto frequente soprattutto dove ci sono tanti animali quindi è molto frequente chiaramente nelle colonie feline nei gattili perché chiaramente come vi ho detto il 90 per cento dei gatti è positivo al coronavirus intestinale quindi c'è un'eliminazione elevata il coronavirus intestinale vive nell'ambiente poco non resiste agli agenti ambientali più di 24 ore e viene comunemente disattivato dai comuni disinfettanti quindi è molto importante nella gestione dei gattili pulire bene proprio per evitare che esista questa contaminazione coronavirus proprio perché non si è ancora ben capito il meccanismo d'azione dal coronavirus originale alla mutazione di questo coronavirus che poi crea la FIP terapia terapia ad oggi non esiste esistono però diversi studi molti studi stanno studiando una terapia efficace molte strutture che si occupano di ricerca stanno utilizzando dei farmaci anche innovativi per vedere se rispondono chiaramente a se questi gatti rispondono soprattutto in questo periodo in cui c'è stato il covid nell'uomo che non è ovviamente lo stesso coronavirus però si sta valutando anche se questi farmaci che funzionano sul covid possono funzionare anche sulla FIP poi questa è una mia personale opinione chiaramente tutti questi studi intorno alle vaccinazioni sul covid potrebbero avere comunque negli anni anche un buon riscontro magari sul coronavirus felino anche se ripeto non è lo stesso virus però chiaramente fa parte della stessa famiglia e quindi sicuramente tutti questi studi possono aiutare i ricercatori a creare magari un vaccino contro questa mutazione quindi per proteggere questi gatti quindi cosa si deve fare fondamentalmente tutto dipende chiaramente dalla fortuna in questi casi perché grandi cose non si possono fare generalmente è consigliato chiaramente tenere un'igiene elevata soprattutto in quelle strutture in quelle in quegli ambienti dove ci sono tanti animali cercare di ridurre gli stress che banalmente potrebbero essere spostare il proprio gatto in pensione a volte in animali anziani calcolate che generalmente è una patologia che colpisce i gatti molto giovani sotto i 18 mesi o i gatti anziani perché probabilmente è molto correlato al sistema immunitario a quanto il sistema immunitario riesce a contrastare questo tipo di virus quindi è molto importante cercare di evitare gli stress soprattutto negli animali molto anziani quindi se un animale anziani sempre vissuto in una casa tranquillo spostarlo magari un ambiente può essere una pensione dove quello potrebbe scatenare chiaramente essere un evento stressante e soprattutto nei gattini dove invece più frequenti nei gatti giovani lì chiaramente molto legato la sovra popolazione della dei gatti quindi tutte quelle zone di colonie feline chiaramente andrebbero gestite in modo da ridurre quindi sterilizzazioni di massa per ridurre chiaramente la presenza di numerosi animali spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima